Allora, voglio far rispondere prima al Presidente, poi voglio lanciare un contributo che ci porta all'altro tema importante che è quello appunto, purtroppo, degli incidenti sul luogo di lavoro. Allora Presidente, prima lei risponda a tutte le osservazioni, quale è il futuro per il lavoro, perché il lavoro poi viene fatto dai lavoratori però con le direttive dell'azienda, su quello che si profila anche delle possibilità e le opportunità del mercato e aggiungere anche quest'altra domanda, alla luce dell'osservazione che ha fatto il Segretario, siamo una zona dove i dati sono migliori rispetto ad altri, ma in virtù di una posizione logistica, questo è indubbio, ma di un mercato estero che ci dà degli input importanti, perché se noi vivessimo solo in una situazione di mercato interno non ci sarebbe di che ridere, di che sorridere o no? Sicuramente è così, però volevo prima, proprio alcuni secondi, fare una puntualizzazione sul discorso della sicurezza sul lavoro. L'anno scorso, proprio in questo periodo, noi abbiamo avuto una recrudescenza molto importante delle morti, proprio sui luoghi di lavoro e su input dei sindacati di lavoratori, ma condiviso fortemente con noi, c'è stato il Presidente Zaia che ci ha convocato, tutte le parti sociali e l'Inail, per fare un po' il punto della situazione, per capire quali erano le motivi. Quando è stato? L'anno scorso? L'anno scorso, proprio in questo periodo, proprio all'inizio dell'anno. L'Inere è arrivata a quel tavolo con una serie di dati estremamente puntuali e precisi, andando a vedere dove e perché c'erano delle, dove erano avvenuti questi fatti assolutamente di una gravità unica. E hanno a che fare appunto con la facilità, quello che diceva prima il Dottor Righetto, del, come dire, questo eccesso di confidenza con i macchinari, piuttosto che andare a togliere alcune situazioni che invece determinerebbero una sicurezza. Era venuto fuori, per esempio, che una alta percentuale allora era nel mondo dell'agricoltura, ma all'interno del mondo dell'agricoltura, nel settore dei frutteti, perché andavano tolti i roll bar che sono attorno alla cabina, praticamente veniva tolta la cabina per poter girare meglio attorno a... Ecco, questa è una cosa che poi, nel momento in cui c'è un problema, l'operatore viene sbalzato fuori e quando succede questo non è che sia l'infortunio leggero, c'è la morte. Allora, noi abbiamo la possibilità oggi di monitorare in maniera puntuale e precisa quali sono gli elementi che portano poi a questi fatti che vanno assolutamente eliminati, cioè la tendenza è quella di non avere più nessuna morte sul luogo di lavoro. E allora qui si deve fare un'azione di formazione importante, ma anche un'azione poi di controllo rispetto al fatto che queste cose non devono succedere, perché siamo d'accordo noi come datori di lavoro, assieme ai sindacati e lavoratori, che la tendenza è quella che dobbiamo far sì che queste cose non avvengano più. Anche poi i costi sociali sono mostruosi, tra le volte che danno a livello familiare... Perché ci si fa male e si muore sui luoghi di lavoro quando non si ha più la giusta paura dei macchinari e quando non si ha più la percezione del pericolo, la percezione del pericolo deve rimanere sempre tale e quale e la formazione deve proprio andare ad acutizzare questa percezione del pericolo e la paura del macchinario, il macchinario non perdona. I comportamenti quelli di non legarsi con l'imbragatura portano sicuramente a una faciloneria che poi quando avviene l'inconveniente non è l'inconveniente leggero. L'infortunio è assolutamente importante fino alla perdita della vita. Se posso fare un inciso, i due temi sono strettamente legati secondo me, mercato del lavoro, qualità del lavoro e questioni di infortuni e il tema comune sono le condizioni di lavoro. Noi per troppo tempo nella discussione pubblica, e dopo dirò anche su questo brevissimamente, ci siamo dimenticati delle condizioni di lavoro, che è evidente che in alcuni settori sono buone, ma è altrettanto evidente che in altri invece sono peggiorate velocemente, si faceva accenno ad esempio al sistema degli appalti, alla filiera degli appalti, al sistema delle cooperative spuri e via dicendo. Questa attenzione è necessaria a rimetterla in campo da parte di tutti i soggetti e spesso tra l'altro la qualità del lavoro, la pessima qualità del lavoro è legata anche a ambiti marginali che non presidiamo né come sindacato purtroppo, né magari come associazioni datoriali, ma il tratto comune di tutta questa discussione è che oggi, anche oggi, chi interviene è consapevole della complessità dei fenomeni che stanno avvenendo. Ecco, io non sento, e su questo faccio una critica aperta, la stessa consapevolezza della parte politica, in termini trasversali, nel senso che spesso nella moda tra l'altro della disintermediazione non si comprende che questi sei qui attorno magari litigheranno e lo facciamo anche spesso, ma almeno litighiamo appoggiandoci su condizioni reali delle persone, su dati oggettivi e chiaramente poi cerchiamo di trovare anche una mediazione che non è una cosa brutta, anzi spesso vuol dire la soluzione per le persone. Purtroppo la politica questa cosa l'ha, non tutta per fortuna, ma una buona parte l'ha totalmente rimossa ed è chiaro che senza la politica ci manca comunque, a proposito di visione e immaginazione, una traiettoria su cui tutti dobbiamo muoverci. Una visione, assolutamente. Lei comunque ha ritornato sul tema della sicurezza, a questo punto io dopo la domanda gliela rigiro, quello di quale futuro, perché quella mi sembra che bella conclusiva. Torniamo sulla sicurezza, allora vediamo il nostro contributo che così ci tiene su questo tema che ormai ci siamo entrati in pieno. Vediamolo insieme. Nel sud Italia è più alto il rischio di morire sul lavoro. In occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza, proprio nei luoghi di lavoro, i dati dell'INAE le raccontano di un'Italia divisa. Il maggior numero di infortuni mortali, si parla del biennio 2017-2018, si registra nella provincia di Crotone e a seguire in quelle di Isernia e Campobasso. Il sud è in testa quindi per l'incidenza degli infortuni in occasioni di lavoro, con esito mortale, colpa probabilmente della scarsa attenzione delle norme di sicurezza. Nel 2018 circa il 3,8% dei lavoratori ha subito un incidente. Si parla di circa 641.000 persone. L'84% di questi sono avvenuti durante l'attività lavorativa, mentre il 15% durante il tragitto casa-lavoro. L'aumento più significativo è quello che riguarda gli incidenti con esito mortale. 1.133 decessi, 786 in occasioni di lavoro, il 10% in più rispetto al 2017. Diversa la situazione per i casi di tumore. Sono 9, di cui 7 al nord le province che si distinguono per l'incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali. Nella maggior parte dei casi sembra che l'origine sia da addebitare all'amianto. La maglia nera per il numero assoluto di malattie cancerogene imputabili all'attività lavorativa spetta a Taranto, 164 nel solo 2018, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia. Ma dai dati INAIL emerge almeno una nota positiva. Negli ultimi 5 anni, infatti, sia a Taranto che a livello nazionale il numero di tumori denunciati come malattie professionali è sceso, meno 19% dal 2014 allo scorso anno. Ingegnere, vi ritrovate con questi dati dell'INAIL? Questi sono a livello nazionale, poi tornando sul locale. Ci ritroviamo anche se loro nel servizio si parlava del bienio, io ho i dati del 2019. Posso confermare comunque questi dati perché noi lavoriamo sui dati INAIL proprio in cui facciamo poi statistiche e ragionamenti proprio per individuare quali sono le fasce d'età, le cause appunto di questi infortuni mortali. Andiamo con la lente di ingrandimento più sui tempi recenti allora. Sì, diciamo che comunque il migliaio di morti, diciamo, negli ultimi anni è costante, poi 1.100 un po' meno, però diciamo superiamo i 1.000. Tenemo conto poi che questi dati sono INAIL per cui manca tutta la parte agricoltura perché gli occupati di agricoltura non sono assicurate INAIL e quindi non li monitora l'INAIL. Per cui diciamo anche abbiamo dei numeri che sono inferiori ai veri e al vero numero di infortuni mortali che avvengono appunto nei luoghi di lavoro. Nel 2019 e siamo nel primo trimestre ne abbiamo avuti 212, lo stesso numero del 2018. Eravamo partiti meglio, se possiamo dire così, nel gennaio e febbraio ma poi con marzo abbiamo raggiunto lo stesso numero, fatalità. Suddividiamo i due numeri in due macro categorie, abbiamo che 144 sono in occasione del lavoro, cioè durante appunto la digitale lavorativa e questi 144 posso dividerli ancora in due fasce, una con mezzo di trasporto e uno senza mezzo di trasporto, cioè il mezzo di trasporto comunque anche quando uso il camion, quando faccio diciamo, quindi sono lavorando, l'autotrasportatore, il furgone eccetera, sono comunque dei numeri importanti. Quindi questi 144 ne abbiamo 19 in occasione di lavoro con mezzo di trasporto e 125 senza mezzo di trasporto. Poi ne abbiamo 68 in vicini itineri, per cui il recarsi al lavoro o ad andare a casa diciamo al lavoro comunque è conteggiato appunto da linea e quindi un numero significativo, totale 212. Ecco, si può riesce a estrapolare i dati relativi alle grandi aziende dove avvennero incidenti oppure come diceva appunto il Presidente, ambiti dell'artigianato, attività più piccole, togliendo appunto. Noi riusciamo a dare questi dati qua, diciamo che la dividere per comparto, l'attività, diciamo il comparto con l'attività manufatturiera, il comparto con maggior numero di morti, l'attività manufatturiera che ha sorpassato con 18 infortuni mortali, che ha sorpassato in questi tre mesi, perché poi insomma abbiamo tre mesi rispetto agli anni precedenti, che ha sorpassato il settore costruzioni di uno, per cui da una parte abbiamo 18 morti, dall'altra abbiamo 17 decessi. Poi abbiamo il trasporto e il magazzinaggio, cioè trasporto e magazzinaggio abbiamo quell'attività pericolosa, che è appunto la logistica, non solamente quindi quella stradale, ma anche quella interna agli stabilimenti. Tipo il muletto. Esatto. E qui si apre il tema appunto che si diceva prima degli appalti, nel senso che spesso il servizio di magazzinaggio è dato magari a ditte terze, per cui abbiamo lavoratori di datori di lavoro diversi che lavorano all'interno dello stesso plesso industriale, o artigianale e quindi con problemi, diciamo, di comunicazione, eccetera. Dopodiché, una cosa da dire è che le costruzioni comprendono le infortuni di soldi di caduta dall'alto, perché appunto abbiamo lavori sui tetti, eccetera. Da dire, e mi riferisco a quello che diceva prima il Presidente, il discorso della percezione del rischio. La percezione del rischio è un aspetto importante ed è una cosa che va evidenziata, diciamo, quando si fanno appunto i percorsi di formazione. Perché se io non ho la percezione alta del rischio, rischio di sottovalutare quello che mi succede davanti e quindi ho sempre fatto, ho sempre avuto… L'esperienza mi può portare al fallimento e purtroppo di fronte a certe macchine, a certe situazioni, appunto, ci può essere poi appunto l'infortunio mortale. Per cui lavorare sulla percezione del rischio è importante. L'esempio possiamo farlo quando noi andiamo in macchina, se prendo la multa perché ha accesso di velocità, la mia percezione del rischio e quindi di rispettare le regole della strada e quindi il codice, ce l'ho appena prendo la multa. Poi ce l'ho ancora per un po', dopodiché se nessuno mi controllo, se non vedo polizia per strada, è brutto dirlo, ma è così, tendo, tendo psicologicamente, perché siamo uomini, a dire vabbè posso andare anche un po' più veloce. Per cui il fatto, diceva dei controlli prima, è importante. Cioè il fatto che ci siano dei controlli, diciamo, positivi, cioè non dobbiamo vederli come dei controlli per forza che castigano le aziende, ma di controlli positivi verso le aziende, sicuramente questo può portare a rispettare le regole, previste dalla legislazione, che ne abbiamo una legislazione piena di regole, infatti non abbiamo bisogno di altre leggi, ma in maniera più concreta, sia da parte di lavoratori, sia da parte ovviamente del preposto, piuttosto che del datore di lavoro e di dirigenti. Ci sono sufficienti controlli secondo lei, è sufficiente il sistema dei controlli, come funziona sostanzialmente? Sempre facendo riferimento all'incontro dell'anno scorso per quanto riguarda il piano strategico del lavoro, ci sono state delle richieste specifiche, mi pare, proprio avanzate dalle organizzazioni sindacali, alle quali le organizzazioni datoriali non hanno obiettato assolutamente nulla, per quanto riguarda un incremento del numero degli ispettori e questo mi pare che progressivamente ci siano dei nuovi ingressi. Due cose però, innanzitutto tenete conto che c'è una figura importantissima, che è una figura sindacale, che è sdoppiata, nel senso all'interno delle aziende sono i lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, all'esterno per le piccole imprese, ci sono invece i rappresentanti territoriali che interagiscono con queste aziende, non hanno un compito ispettivo. Esterni quindi? Sono o esterni o interni, a seconda della dimensione dell'azienda, l'artigianato ha fatto con l'artigianato Veneto con l'accordo del 2003 già la sua scelta, noi abbiamo 21 RTLS, 3 per ogni provincia, che girano sostanzialmente le imprese. Ribadisco, non è un controllo, ma sicuramente è una forma di interazione importantissima, visto che ci sono obblighi di legge da parte dell'azienda per le consultazioni e in quell'occasione, diciamo, il rappresentante ha un po' e una visione di tutto questo. Secondo aspetto, attenzione per quanto riguarda il mero aspetto repressivo, che è importante, lo ribadiamo, non c'è nessun'ombra di dubbia, ma accanto a questo bisogna aiutare le imprese, soprattutto le più piccole che possono essere anche al di fuori di alcuni contesti, diciamo, di servizi o di contesti associativi, a iniziare il percorso. Cioè se io vado lì, bastono l'azienda e gli dico 10 mila euro, 5 mila euro di sanzione, per cui non hai adottato questo. Cosa capisce l'azienda poi alla fine? Che paga, non gli viene spiegato il motivo, se non il codice, il com, il riferimento alla legge, ma l'importanza del nuovo ruolo che dovranno avere gli spisa, e questo viene delineato anche all'interno del piano strategico del lavoro, è di fornire l'assistenza, attenzione, non devono trasformarsi in consulenti per le aziende, ma di assistenza, di spiegare che quel tipo di comportamento ha avuto, ad esempio una macchina non ha norma, può produrre degli effetti molto gravi per quanto riguarda gli infortuni e quindi ti sanziono perché tu non eri a posto, quindi la prossima volta cerca di avere maggiore attenzione oppure dotati di un consulente. Ecco, quindi gli aspetti da porre in luce sono soprattutto sul ruolo che lo spisa deve avere e sappiamo che su questo c'è una notevole attenzione da parte della Regione Veneto con i suoi momenti di coordinamento. Quindi è un'attività regionale. Sì, 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 prego, scusami. Volevo solo dire una cosa in questo perché noi abbiamo, insomma, tra le tre organizzazioni sindacali abbiamo anche parecchi iscritti che operano all'interno dello spisa e il dottor Righetto ha ragione quando dice che non ci deve essere repressione. In verità gli spisa operano raramente anteponendo l'aspetto repressivo all'aspetto tra virgolette educativo. Non è un caso che, se non per fatti assolutamente di estrema gravità, una macchina che non ha nessun sistema di sicurezza o cose del genere, ma se non per fatti di estrema gravità il primo intervento generalmente è un intervento che si conclude con un consiglio e dei tempi per sistemare poi ciò che all'interno di un'azienda è, come dire, fuori dalla norma o ai limiti delle norme. Ecco, per cui questo è già un lavoro che fanno. C'è un altro problema, è vero che è stato sottoscritto un accordo con la Regione Veneto per aumentare gli organici, ma, come dire, quota 100 probabilmente toglie un po' di organico anche in quel settore. Ma dovrebbe essere un turnover? Non solo toglie qualche figura importante, ma, come dappertutto, tu hai bisogno di chi ti accompagna quando entri nel mondo del lavoro. Quindi non c'è la formazione. Ed è evidente che soprattutto per queste attività, che sono molto specialistiche, perché ci sono tecnici, ci sono medici, eccetera, l'accompagnamento è un fatto importante e quindi se togli le figure, come dire, che hanno esperienza e anzianità, chi entra ha bisogno di un po' di tempo, come naturale, normale per tutti noi, insomma, per abituarsi e, come dire, imparare la nuova attività. E per ultimo, e poi chiudo, stiamo parlando molto di educazione civica. E, accidenti, si dovesse ragionare veramente sull'educazione e la sicurezza, che come si dice... Quindi ci cominciare a dare scuole. Sì, lo stanno facendo, per l'alternanza scuola-lavoro. Uno dei pregi che ha, poi, parliamo dei tanti difetti, ma uno dei pregi che ha è mettere i ragazzi, tutti, quindi quelli che andranno a fare gli imprenditori, come quelli che andranno a fare invece i dipendenti, tutti di fronte al problema di una, come dire, spiegazione su cos'è la sicurezza. Non si deve fermare lì, deve essere una formazione, come dire, continua. Mi ha bruciato una sorpresa, però... Ma io e Farruccio ci conosciamo da ragazzi. Guai, la prossima cosa. Allora, la sorpresa è questa. Su questo tema del rapporto tra scuole, che poi era stato identificato dal Presidente proprio come nodo, diciamo, per il futuro, e sicurezza, le parti sociali del Veneto, quindi nell'artigianato, stanno predisponendo, anzi hanno già predisposto un protocollo, che sarà presentato l'ufficio scolastico regionale, per metterci a disposizione con il comitato paritetico, che si chiama COBIS, rispettivamente rispetto, diciamo, a tutte le scuole che ne abbiamo individuato alcune dal punto di vista così sperimentale, in maniera che questa grande disponibilità, diciamo, di tecnici delle parti possa essere momento di aiuto all'interno delle scuole, proprio per educare, diciamo, sarebbe formazione in formazione, per quanto riguarda tutti i temi della sicurezza. Quindi questa è la sorpresa, al prossimo futuro lo presenteremo. Mannaggia a te che me l'hai bruciato. Quando tu puoi essere... Un aspetto fondamentale, che secondo me viene a proposito anche di repressione, è spesso non si calcola nemmeno dalla parte dell'imprenditore, in particolare del piccolo imprenditore, le responsabilità che ha, nel senso che poi spesso accade drammaticamente, che voglio dire, ha dei rilievi di carattere penale, quindi siamo di fronte in alcuni casi a situazioni in cui le vite rovinate poi alla fine sono più di una, non so come dire. Quindi al di là delle responsabilità e chi le ha deve pagare, ma è bene in qualche modo riconoscere queste responsabilità, prima perché io conosco parecchie figure che una volta messi davanti alle loro responsabilità si sono resi conto e quindi hanno assunto una consapevolezza anche rispetto al ruolo. Questo vale per i lavoratori nelle varie cose e vale dall'altra parte. Quindi su questo c'è davvero da fare cultura. Ed è altrettanto evidente che bisogna essere radicali, a mio parere, su chi invece cerca di sviare le regole in termini sostanziali, al di là di quelli formali, per cercare in qualche modo o riduzioni di costi o disattenzione, perché appunto penso siamo tutti d'accordo nella necessità che chi non sta alle regole, parlo in termini reiterati, consapevoli, vi dicendo, debba essere assolutamente, perché concorrenza sleale è anche quella, perché dall'altra parte invece è quello che cerca di stare in regola, magari anche con fatica per tutto quello che comporta. Sì, dove di qualcosa? Volevo ragionare su un aspetto che a mio parere è un po' l'elemento di criticità, che è tutto il sistema degli appalti e dei subappalti, che sta sicuramente deteriorando quelle che sono la percezione della sicurezza, perché gli appalti e i subappalti non lavorano all'interno di regole e ambiti rispettati, ma spesso lavorano. Se c'è un subappalto è un subappalto dell'appalto, è un elemento che è più legato all'economicità di quel tipo di relazione. Poi sono uguale per tutti comunque, è sempre un'azienda, è quella che l'economia si costruisse sulla sicurezza, primo aspetto. Secondo aspetto, a 11 anni dall'entrata in vigore del testo unico, il testo unico aveva un importante valore, che non era quello di costruire una regola e creare dei sistemi di repressione, era quello di costruire all'interno dell'esigenza di rafforzare la prevenzione e la sicurezza, degli attori che interagissero tra di loro per determinare quella che è la funzione dell'azione, che vuol dire parti sociali, è importantissimo, datori di lavoro, quindi lavoratori e istituzioni, ma le istituzioni anche in un termine di sinergia. Cosa è successo? Che dal 2008 ad oggi, purtroppo c'è stata una crisi che ha creato tante difficoltà. C'è stato uno Stato che ha ridotto le disponibilità ovunque, soprattutto in questi ambiti qua, perché oggi la Regione Veneto, l'anno scorso, su stimolo delle parti sociali, ha rilanciato l'esigenza di riportare i numeri di quelli che sono le istituzioni atte alle verifiche a un livello decente, ma però fino ad oggi il problema c'è stato. E io dopo mi allaccio all'ultimo aspetto che a mio parere un po' noi dobbiamo invece rafforzare il principio culturale che è all'interno del testo unico, che è quello della cultura della sicurezza, dove anche il sindacato, anche le parti sociali. Noi dobbiamo fare sicuramente molto di più con i nostri RLS, dotandoli di quelle competenze necessarie per essere realmente interlocutori all'interno dei luoghi di lavoro rispetto all'esigenza di tutela dei propri colleghi e degli ambiti di sicurezza, ma anche all'interno degli RLST, perché gli RLST sono i rappresentanti, i rappresentanti territoriali. Perché la differenza qual è? Che più o meno il 50% dei lavoratori sono allocati all'interno del 10% delle aziende più grandi, ma l'altro 50% dei lavoratori è allocato, cioè lavora, dentro il 90% di aziende piccole. Eh, quello è il discorso. Parcellizzate. Allora, il ruolo della bilateralità su questo, e c'è una schadenza importante per la bilateralità, è il ruolo degli RLST. Diventa strategico se vogliamo rafforzare la cultura, perché quelle persone che sul territorio devono andare non a controllare, ma a favorire il rispetto della sicurezza e della prevenzione in luoghi di lavoro, devono essere messe in condizioni di poterlo fare e di doverlo fare bene. Io mi collego a un ragionamento che prima faceva il Presidente, per dire che abbiamo una sfida comune, perché il lavoratore che entra dentro in un ambito lavorativo all'interno della campagna, senza la cabina, per fare prima, è vero che c'è il lavoratore che ci va, è vero che c'è qualcuno che vede che questo accade. No, allora è per questo che, non so se l'elemento è esclusivamente legato alla dinamica di, come si dice, attitudine all'utilizzo del mezzo, ma è ancora legato a dinamiche di velocizzazione dell'attività, che vedono ancora la sicurezza come un elemento che possa essere distorsivo nel raggiungere l'obiettivo. Su questo io penso che le parti sociali hanno tanto tantissimo da fare. Poi l'ultima cosa è il cliché. Purtroppo avviene che in molte grandi aziende, diciamo più avanzate, sicuramente la prevenzione e la sicurezza viene curata, non in modo esortivo. Però è anche vero che la metodologia del cliché, dove la sicurezza è ancora un qualcosa di burocratico, un qualcosa di… Non percepito come reale e utile, insomma, sostanzialmente, c'è il problema. Il problema del cliché è un problema esistente, quindi bisogna formare i consulenti. la sensibilità… No, adesso infatti do la parola all'ingegner Pozzo e poi al presidente. La devo interrompere perché abbiamo la pubblicità che incombe. Pubblicità a pochi secondi, poi ritorniamo insieme.